Questo è il Vango Apex Air, uno zaino da trekking da 30 litri che mi ha veramente stupito per le sue feature e soprattutto per il suo peso. Adesso insieme ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Apex Air, perché qui troviamo uno schienale telato che vi assicura davvero tanto tanto traspirante. Uno zaino telato che ha un frame nella parte interna che va a distaccare davvero tanto lo zaino della nostra schiena. Vi assicuro che nella parte più distante si parla anche di 5 o 6 cm di distanza dello zaino dalla schiena. Uno schienale sì molto traspirante che però va di pari passo con una stabilità non così eccellente. Una stabilità che finché dobbiamo fare dei sentieri abbastanza classici va molto bene, evitiamolo magari di utilizzare su dei punti più tecnici perché gli potrebbe un po' sbilanciarci. Ma dal punto di vista della traspirabilità per del trekking è veramente tanto tanto traspirante. Per quanto riguarda invece la parte di fascia lombare, qui troviamo una fascia lombare abbastanza classica con un materiale anche lui molto traspirante. Mi piace che troviamo due tasche sulla fascia lombare sia a destra che a sinistra, perfette per poter portare del materiale, delle barrette, comunque avere qualcosa sempre a portata di mano. E la parte anteriore è chiusa dalla classica fibbia che si può andare a tirare per poterla stringere. Dal punto di vista del peso diciamo che con questo Apex Air 30 starei al massimo su 10-12 kg proprio al massimo. Diciamo che già 10 kg è sicuramente un ottimo compromesso. Una parte anteriore che si conclude poi con degli spallacci. Degli spallacci abbastanza classici con un'imbottitura abbastanza minimal ma che comunque svolge un ottimo lavoro. Degli spallacci anche loro molto molto traspiranti. E poi una piccola chicca che sullo spallaccio di destra troviamo anche la possibilità di andare a riporre i bastoncini. Infatti riponendo la parte superiore del bastoncino sullo spallaccio di destra e il puntale invece sul laterale di destra, ecco che possiamo andare a riporre i bastoncini in modo classico, in modo tale da poterli riporre quando andiamo a fare magari dei tratti un pochino tecnici. Da questo punto di vista dei spallacci fatti molto bene che poi naturalmente rappresentano anche qua la classica chiusura sul petto. Parlando invece della parte posteriore iniziamo subito da uno di suoi due lati perché vi pronuncio che i due lati sono simmetrici quindi ne vediamo solamente uno. La parte laterale è composta da una classica tasca rete, bella ampia, davvero ci sta dentro una borraccia bella grossa da questo punto di vista e soprattutto le borracce riusciamo sia a prenderle sia a riporle in autonomia. Nella parte inferiore abbiamo una fibbia triangolare che ci permette di poter andare a tirare e comprimere lo zaino ma non solo perché troviamo anche una fibbia nella parte superiore proprio per poter andare anche in questo caso a comprimere lo zaino. Questa è ottima perché ci permette anche di poter portare degli oggetti particolarmente lunghi. Parlando invece della parte posteriore vera e propria qui salta subito all'occhio questa grossa tasca non a rete fatta in materiale. Una tasca esterna veramente molto grossa dove all'interno possiamo andare a riporre magari una giacca a un secondo strato che torna sempre veramente molto utile. Nella parte esterna poi possiamo andare a riporre nella parte laterale dei bastoncini, classici bastoncini oppure anche dei bastoncini più una piccozza. Per quanto riguarda l'apertura di questo Apex Air 30 ha una sola apertura nella parte superiore. Diciamo che questo forse è il più grosso limite di questo zaino perché già un 30 litri trovare un'apertura inferiore sarebbe stata abbastanza comoda ma non c'è. La parte superiore invece è chiusa con una cinghia passante innanzitutto che ci permette di poter portare magari anche qua una giacca aggiuntiva. E poi troviamo due classici cordine ad andare a tirare. Uno che chiude proprio la parte superiore dello zaino e uno che invece va a ristringere la parte sommitale nel caso di utilizzarlo da mezzo vuoto. Sicuramente da questo punto di vista una chiusura superiore è fatta molto molto bene. Infine la parte del cappuccio troviamo due tasche perché ne troviamo una esterna molto grossa, ci stanno dentro tanti tanti oggetti, e una interna un pochino più piccola ma anche l'è sempre molto comoda. Parlando infine del comparto acqua, come vi dicevo possiamo portare due borracce all'esterno anche molto grosse, c'è la possibilità di portare la vescica all'interno che ha possibilità di far uscire la pulunga sulla parte anteriore e in notazione troviamo anche il Rain Cover per andare a proteggerlo dalla pioggia. Per quanto riguarda i materiali, questo Apex Air 30 è fatto con un XL200D Ripstop, un materiale che mi è piaciuto molto perché è abbastanza resistente, devo dire che per del trekking non dà nessun problema, lo possiamo utilizzare davvero per tanto tanto tempo, ma soprattutto lo rende veramente molto leggero perché parliamo di uno zaino da 30 litri che pesa 980 grammi, quindi siamo sotto al chilo. Sicuramente uno zaino che è così areato e così traspirante anche sotto al chilo lo rende una feature veramente molto molto interessante. Dunque arriviamo alle conclusioni per questo Vango Apex Air 30. Innanzitutto il prezzo perché lo si trova online sui 135-140 euro, uno zaino veramente molto leggero che io personalmente vi consiglio come zaino anche abbastanza un po' tutto fare, con il quale potete fare del liking semplice in giornata, magari anche del trekking in rifugio. Da questo punto di vista uno zaino che vi assicuro vi farà sudare pochissimo perché è veramente tanto tanto traspirante e che dal suo punto di vista è veramente anche tanto leggero. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stato esaurante e sostenuto anche per questa recensione, vi ringrazio la guardate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!